Ferraro, protagonista oggi a Cogoleto con una doppietta, la superba, quattro vittorie corsecutive. Cosa ci dici? Primo gol di fortuna, secondo bello, così la picchia è buona. È stata una forzita importantissima, venire a Cogoleto, loro anche più su in classifica, vincere 2-0 all'inglese, siamo contenti, teniamo la testa bassa e lavoriamo perché è ancora lunga per tutto il campionato. Difesa solida? Difesa solidissima perché è ancora la terza che non prendiamo gol, però a parte l'imbarcata dalla prima, ci stiamo sistemati, stiamo lavorando e il mister, il lavoro del mister Assistenza da vedere, però piante. Buon weekend, complimenti. Grazie a voi.